musica 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 mamma mia cosa succede cos'è un ragno gigante guarda i wouldn't be surprised musica ora vi esorto fratelli amore libero 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 a tener d'occhio spotten ahia Sì dimmi allora sì c'era un problema qui nella curva 4 ma 4 macchine tutte che non riuscivano a salire e ancora qui nella discesa pare che ci sia un grande casino ti conviene iniziare a ti conviene iniziare a camminare vedo che qua è pieno di macchine bloccate c'è grande coda e mi sembra anche un pullman che non so ora vediamo com'è ha un pullman che deve salire che non ce la fa salire e poi un altro camion di dietro ora vediamo come va qua è proprio ghiacciato no inizia a camminare a camminare cammina verso perché faccio la strada quella corta capito passo per fa che veramente ghiacciato qua mi conviene salire poi sul marciapiede del set insomma mo vediamo come fare vedo che c'è una macchina c'è parecchio casino poi tutto tutto ghiacciato tutto bloccato anche qua è tutto ghiacciato e questa c'è il okey ciao ciao ilorasario non puro musica non puro non puro cantica è una macchina ogni mania e non fu che abbiamo chiare per il bambino in questo processo ci ha il cielo ci ha mentre mi chiede No, 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 no... ...ale non la 112, ma la 112 c'è oggi... ... però no, no, noi ci vediamo e ci vediamo. Dora, no, no. Ojoj! Oh, I saw you. Quanto tempo è stato assistente? Non lo so. Non lo so. ehhh train station, bus station ehh next next no ehh powiem szczerze jak osobowką, czy osobowką no, jak ma Pan da 4 to Pan przejedzie takim slalomem, a jak nie to jak się to co kawałek stoi samochod który trza ma minąć i z dwóch stron jadono samochody nie? No... Musiamo aspettare. Non c'è nessuna possibilità di fare. Ora è stato un traktore. Ok, ok. ecco ma c'è un casino incredibile comunque po voli po voli arrivo non so come facciamo a tornare indietro qua ci conviene passare totalmente dall'altra parte perché qua è tutto è stato bloccato è stato bloccato è stato bloccato è stato bloccato ok ciao 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 dimmi com'è la situazione? è tragica qua io sono passato senza problemi però la situazione è tragica e per tornare indietro non so come si farà ah perché sei ancora a Wodekovic? delle macchine non possono né scendere dalla discesa né salire dalla salita il pulver l'hai visto? si si il trainer l'ho appena lasciato io ho spuntato il vaccino di Leo perché dove vado io? guarda sono uscita dalla curva e una mattina prima di me ha girato il contrario ma come fai a girare da dietro? come a girare da dietro? ma dove andrai tu? a Javiez? devo fare il giro da Javiez ma da la è tutto bloccato anche lì non ce la fai come è tutto bloccato? anche di la è bloccato? ma si ah e allora siamo in merda perché non c'è un'altra via eh? eh no e colpa non fermo lì e poi c'è tutta la fila delle auto che non vuole fare la discesa perché hanno tutti paura a fare la discesa mamma mia cioè la discesa quella che prima di arrivare a quella curva a quella curva insomma un casino va dai vabbò no dai non sto potendo fare attenzione ciao come c'è il resto ma è questo questo è il Sì. E qui siamo, tutto congelato. Per rescue Tim, ma tu non sai che casino che c'è qua adesso? E io non so se conviene passare di là. Non conviene neanche passare di là. Eh, e quindi? Di qua, no? Ma c'è una coda da mille e una notte. E allora, però qua sarà tutta ghiacciata, tutta la salita, mamma mia, adesso posso sviluppare e poi sviluppare quanto è bello, questa mattina cos'era quando volevi? Com'è? Volevi sviluppare e ecco qua. Appena mollo le ridotte, ma tutte le macchine frenano e vanno avanti altri 5 metri. Perché non hanno le ridotte, devi pensare bene alla macchina che vuoi prendere. e la mia Mazda MX-5 farebbe il drift. Farebbe proprio il 360. Il derapage. Solo i 4x4 vanno, perché il resto... Sì sì, ti dico, il resto è tutto così, guarda. Non riescono a partire. Nooo, adesso non mi sembra ne capito qua. Capito? Spingilo. Oh fuck shit. Guardalo, guardalo. Guarda, guarda che lastra. Guarda che lastra di ghiaccio. Adesso qua, le macchine che devono uscire da qui, sono qui da ieri sera che non ce la fanno. E queste qua erano tutte le macchine dietro di me e adesso qui inizia la coda. E non possiamo... No, perché non riescono a salire la... Perché non so... No, non è che non riescono a salire. C'è la sopra, c'è poi la discesa. Ah, e quindi vanno tipo... E no, si bloccano lassù. Capito? Si bloccano lassù. Fuck. Un casino. Ma da ogni zona adesso così. Eh? E da ogni parte così. Seems like. Un po' in più. E quindi, un po' anche.... Un po' più. Un po' più. E quindi, un po' più. Un po' più o più. Ma puoi superare quando ritornare... Ah, sì. Io non avrei questo problema. Eh... Vedi come sono messo, c'è? Un po' più. Un po' più... Da... Un po' più. Un po' più. Un po' più. Eh sì, non ce la fa salire, era qua poco fa guarda qui e l'astra, ti dico non ce la fa, c'è altro problema questo è come quando eravamo a Livigno, lassù la, l'altra, il luping bellissimi, quanti che vanno su marcia a piedi è perché almeno la non è ghiacciato e c'è un po' più di attrito, capito? questo qui era quello dove ho portato il trainer cioè il pullman qua, questo è uno, poi di là inizia poi il casino c'è macchine per traverso, un pick up per traverso è tutto frozen devi prendere una Jeep, un 4x4 sei più safe Toyota Raptor ma guarda attento, se vuoi che c'è un pick up la traverso il pick up, non so come mai, infatti non ce l'ha fatta salire in quella curvona devi prendere i jipponi, quelli che hanno delle ruote Kingbill d 84 2 6 8 8 3 5 8 Ma su questi non sono i nostri? Si si E' qua che ho portato il trainer Qui? Ah wow che è E' quello Cosa succede guardano con le macchine d'apertura? Ecco la natura quando vuole Si ghiaccia da tutte le strade Spostati un po' Guardalo guardalo come partite con lì Guardalo guardalo col culo e partite come non sa cosa Dietro è libero Come la Vedi la salita Attenzione dietro Vedi com'è? Adesso queste qua tornano indietro Se tornano indietro Oppure noi ce la facciamo In America c'era anche la stessa situazione In Canada adesso La gente che gira con gli sci Guarda qua prendi Gli skate E vai Vedi che la però mi sembra che ci sia un blocco Non si riesce ad entrare Allora Mamma mia che ghiaccio Si si Ma da dove è venuto? Dove è spuntato questo ghiaccio? Ha nevicato C'è stata la bufera E dopo di che è abbassata la temperatura Dovido? Va veloce per prenderlo spunto C'è gente la ferma Ma adesso ha le ridotte giusto? Le ridotte quelle lunghe Che con queste veramente già Sono a posto Prima per scendere ho messo quelle corte Just in case Com'è là? Niente qua c'è il momento della discesa Il momento della verità E se non scivoli come un pinguino Ma dove va il panda così? Ma tu non puoi andare eh? Eh io vado C'è Speriamo di andare giusto Ocio? Spostati Ecco e là c'è la salita dell'inferno Beh quella Chi ce la fa ce la fa Questa qua è la micidiale poco fa eh I'm telling me Mamma mia il camioncino che è andato fuori Sì sì è proprio Quelli che la smingono Oh madonna Guarda questo Guarda guarda lui È partì Se l'ha ridotto È partito Ecco vedi Adesso qua è un casino Nooo Questi hanno bloccato la strada Proprio dimmi dimmi Volevano superare e alla fine guarda Sto facendo un po' di retromarcia per appoggiarmi qua al marciapiede Io se mi chiudono Se mi chiudono la porta Io quasi quasi passerei di là Ma tu non ci passi Ma sì che ci passo Quindi opportunity Iscriviti Adesso Ho non ci passi? no perché mi scivola sul marciapiede non mi riesce a salire la macchina da dietro se non riuscivo a passare no ad andare avanti ce la faccio e che non riesce a salire quel pezzettino che io posso passare qua la faccio e che non riesce a salire 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 Meglio magari lasciarla qui, perché? Questo è un 4x4, non ho problemi, sono salito poco fa. C'è una ripresa da casa o non lo so? Però cazzo!